No, non vi riprendo Prova Paterni Grazie Sulla catena di destra Su di lui la chiusura di Castaldo Cioè ancora a calcio l'angolo Stessa volta è stato tra Castaldo ha finito l'istensione di Paterni Ancora una volta devastante Quando parte sulla fascia destra La velocità dell'esterno destro Che la correggersi ogni volta Ha a disposizione un po' di campo Non riesce sempre a mettere in difficoltà Tutto il reparto difensivo del Monopoli Nico Paterni Velocissimo sulla catena di destra Ex giocatore della Paganese Sì ma è di estrazione della Lazio Biancazzurza Sì, settore giovanile della Lazio Dieci presenze Anche in Lega Pro Con la Paganese Scuola Lazio Nicolo Paterni Tanto c'è una rimessa Dal fondo Questa battere Tognoni Grazie a te Grazie a te Ciao